Ciao a tutti Mi stavo ancora sistemando quindi Ok Forse ci siamo Eccoci qua Ciao a tutti e benvenuti in questo Nuovissimo video Oggi siamo in una nuova serie Horror Forse sarà una serie ma non lo so Vedremo se questo gioco Ci piacerà come Death Park 2 Oggi siamo su Horror Tale 2 Versione 1.0.0 E siamo pronti Per iniziare un nuovo gioco Daily News Mancante aiutaci a trovarli Samantha Stone Età 12 genere femmina Capelli neri Nero Altezza 1.5 metri Il peso 42 kg Chiunque avesse informazioni Può contattarci a questo numero Vabbè Difficoltà fantasma No ok Andiamo in difficoltà facile Madonna che animazioni Ecco fatto E dai Questa pubblicità di merda Ogni volta Nella puntata precedente Horror Tale 1 Rapitore No Non lo abbiamo giocato C'è stato uno con la bicicletta Che cammina E si spunta davanti Horror Tale Che lo rapisce Mi chiedo dove siano finiti Quindi due persone Sono scomparse Wow è così bello Spero che si riprenda Strano perché La luce proviene dal pozzo Forse tieni Forse tieni dai Vabbè Potremmo fortificare Il quartiere generale In modo che non Non ci catturi Dai andiamo a letto Sono molto stanca Harry Harry dove sei? Harry è una battuta Questo è l'amico più intelligente Che abbia mai avuto Bella presa E la madonna Mi taglia la testa Con sta sega Ok Non ho capito Che dobbiamo fare Sono passate già Due minuti e trenta Ma so io Quello che sono stato rapito Io quello che devo Madonna Che grafica De merda Eppure l'ho impostata Su alto Che è il massimo Ok Dove diavolo sono? Sembra una prigione medievale Devo uscire da qui Sporcizia Qualcosa con cui scavare Muro di pietra La la Mi sembra un po' Strano Dove la trovo io La roba che scavava Scusate Ma Guarda tu Gesù Cristo Io non l'avevo Minimamente vista Questa differenza Adesso ci ho fatto caso Devo spostare Tutti questi blocchetti Dai Ci mettiamo tre ore Ma guarda la madonna Dai che c'è passi Che pesare 42 kg Mi pare È fantastico Penso che posso Adesso Adesso Giammi Oh Soppiata la pala E vi rimacurata Giorno 4 Giorno 4 Sembra che non ci lascerà uscire Forse ha bisogno di un riscatto Ma i nostri genitori Non hanno nulla da dargli Fa molto freddo Ci sono scarafaggi ovunque È disgustoso Di notte ci girano Continuamente intorno E questo disturba Terribilmente il sonno La cella è incredibilmente Argusta Billy Soffre continuamente Di claustrofobia Soffoca e urla Di paura Io ho tanta fame So che è un peccato Ma addio Darci Darci qualcosa Cosa Darci Ah Darci qualsiasi cosa Per un po' di burro Di arachidi In questo Ah darei E non si capisce un cazzo Di come sta scritto qua Ma almeno Siamo rinchiuse Insieme La povera Sam È tutta sola Ed è qui da molto Più tempo Non so come stia Dio Onnipotente Ti prego Fa Che ci trovino presto Vabbè A me non mi interessa Sinceramente A me mi interessa Che mi salvo io E basta Noi possiamo togliere La sporcizia Ok Stava praticamente Un buco E non hanno Tunnel Ok Sono stato uscendo Ma non si sa dove Le ali della libertà E dove sta sta libertà Fammi capire Cioè Non abbiamo una cosa Da fare Praticamente Dobbiamo solo cercare Di scappare Da questa prigione Non è tipo un horror De quelli di salvare La città Come Death Park Aia Penso che me Sono fatto male Però Là sopra Non c'è stava niente Stanno dei mattoni Non credo Ci servano Ci servino Non so Ci manca l'italiano Tom? Tom Tu nome è Tom Certo? Si Come mi conosci? Si Mi chiamate Inizio al giro di direzione L'ultimo Mi ricordate? Oh Mi ricordate Mi ricordate Mi ricordate Mi ricordate Molto di classi L'ultimo Mi ricordate Tu non eri Un giorno E' stato Un po' Un po' Mi ricordate Non mi ricordate Come mi ricordate E tu Samantha Si Praticamente si sono rinchiusi in questa prigione. Horror Tale si è rinchiusi in questa prigione di merda. Hanno pregato tutto il tempo, non potete vedere, non è servito a nulla. Per farla breve, niente di buono. Non lo crederai, lo vedo tornare il mio amico in una dolla. Sì, lo so, lo so molto di lui, infortunatamente. In effetti, Cingy deve essere un suo amico che mi ha salvato finora. Finché ho deciso di provare a scappare la settimana scorsa. Praticamente si è rotta pure la gamba. Praticamente non ci sembra, non sembra esserci un modo per scappare. Dalla prigione di Horror Tale 2 V1.0.0 Vabbè, non c'è entrato. Voto il gioco per migliorare e accelerare l'uscita del sequel. Cazzo, mai! Mica possiamo aprire, no, ci abbiamo la chiave, boh. Ma scusi, sono passato qua, prima non l'ho vista. Eh, vabbè. Oh, porca madonna. È morto. Quasi. E io ma che faccio? Questo è Horror Tale, raga. Io arrivo alla porta e mi tuffo dentro qua e me ne vado, giusto? Buh. Riparo. Ah, ok. Sta arrivando Horror Tale. Buh. Ho bisogno di te. Ti troverò. Eccolo. Mh. Però è qua davanti. Dove? la fermata, eh. Oh, cazzo. Non sa che mi trova, eh. Eh, sì. Cazzo. Ebbè, probabilmente dobbiamo cercare un modo per scappare da Horror Tale. No, non ci siamo riusciti, però... Vediamo se ce la facciamo. È ora di uscire. Ma dove sono, scusa? Praticamente dobbiamo rompere la porta. Ma dobbiamo rompere questa porta qua. Ci sono diversi simboli alle pareti. Ma questo non è l'esterno, scusate. Io devo sfondare i mattoni, non rimetterli a posto. Ah. Se prende il mattone, ci rompe la porta. Guardate, io ho un'intelligenza. Ditemi se l'avevate pensato pure voi. Vedete? No, non si rompe. Si è rotto il mattone o si è rotta la porta? Ah, si è rotta! Ve l'ho detto io! Ora ci sta sicuramente un Horror Tale. La mia collezione sta crescendo. C'è però un giornale. La speranza è l'ultima a morire. Gli abitanti di Lake Witch continuano a cercare i bambini scomparsi. Viene avvistato uno strano adolescente con una maschera da coniglio. È collegato ai bambini scomparsi? È questo Horror Tale. Non so se l'avete visto. Beh, finché non mi vede sta a posto. So che lui è di là, quindi mi posso esplorare un po' qua. Qua non è da dove siamo usciti. No, da qua era da dove stavamo prima. Oddio, ma sta qua vicino? Prendiamo ste strane cosi. È dietro, eh? È dietro, Horror Tale. Non ho intenzione di camminare. E mica le dobbiamo fotte la macchina. Non possiamo prendere sta bicicletta. Mica c'ha la macchina questa. Bloccata. È ancora dietro, eh? Eccolo. Dove porta sta caverna? Ah, perché io stavo pure abbassato poi. Ecco perché non riuscivo a correre. Ma porca miseria, raga. Mi sono tutto scemo. Io ancora stavo abbassato. Per quello non correva. È chiusa. Stavo in Horror Tale dietro. Beh, ma non lo so se mi ha visto. Ma come si scende? Ma come si scende? Io ho buttato il grimaldello sotto. Questa strada qua ha due porta, scusate. Ma io posso farlo all'inviete, sì. No, qua non si può salire. Qua mica è dove stavamo prima, scusate. Come sa che è dove stavamo prima? No, 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 no. Lasciamo perdere. Andiamo via. Risariamo, pure se c'è sta Horror Tale. A me non me ne fotte proprio di Horror Tale. Devo correre in casa di Horror Tale, me sa, eh. Eh, se non mi sta qua davanti. Però io come ci corro in casa sua. Mi ha pure visto, me sa, eh sì. Era strano se non me vedeva. E io non posso usare questo, no? No, porca puttana. Io ho preso il grimaldello. Allora che ci faccio questo grimaldello? Qua non è dove siamo usciti noi. No. Sì, ma state sì. Ecco, Horror Tale. Boh, non ho trovato altro. Mi sembra strano che non c'è altro. Ehi, Horror Tale ci sta. Ah, boh, raga. Ma pure visto, lascia perdere, va. Un cestino per biciclette. Un cestino per biciclette. E' il secreto che mi vedi. Scusate, se qua c'è sta... Ehi, vaffanculo, un Horror Tale. Musiamo in una casa qua. Ma ogni volta spawniamo in una zona diversa. Scalappioli. Oh. La madonna. E qua dove stiamo? Horror Tale sta là sotto. E non so se lo vedete. Ho visto una cosa là. Non so se mi vedete Horror Tale. Non so se lo vedete. Scusate. Non so se lo vedete. Non so se lo vedete... serve a qualcosa sto macchinario qua non credo probabilmente no la monnezza qua non credo serve sto lanterna qua ma non credo serve pure perché non la possiamo prende quindi sarebbe abbastanza inutile no da qua siamo usciti noi non c'è stava nient'altro sotto come si sta a consumare il dito per scorre sto schermo perché non si scorre mai sta roba qua non la possiamo prende è locked io mi ho piaciuto sto grimaldello ma che ci devo fa che se lo uso dalla porta non va boh fatemi vedere allora elementi pure sbagliato fa dove usare in realtà dopo che abbiamo visto 57 pubblicità forse sono riuscito forse uno lo so se me dice dove si deve usare un po premere per accedere l'attività no dove usare in una cassa io la cassa non l'ho vista raga qua dentro non c'è stava sono un simbolo dietro però non credo forti a qualcosa sono dei simboli strani ma non lo so una cassa io non l'ho vista non lo so se sto queste probabilmente sarà in casa però prima devo trovare il modo per sbloccare la porta e poi procedere poliera vuota in effetti ma cammina e basta no comunque io direi di fermarci qua non siamo riusciti a fare praticamente niente quindi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani con un nuovissimo video vorrei chiudere nella home eh no su F1 Clash eh vabbò ciao vaffanculo va vedi horror tale qua de merda horror tale il miglior gioco horror non è vero death park 2 non lo supera nessuno e qua stanno tutti i giochi dell'utopia games ciao